allora buonasera a tutti i carissimi sempre qui quasi in diretta dal parco della gaffarella sono le 4 di pomeriggio e approfitto per un mio solito argomento off topic ma neanche troppo off topic perché sempre riguardante materia musicale comunque allora io tempo fa un tre settimane fa feci un video anzi due in realtà di uno anche con rettifica su un mio criterio su come giudicare la musica che ha fatto anche insomma abbastanza discutere questa volta voglio parlare di un qualcosa di simile che non è tanto quanto il criterio come giudicare la musica e come stabilire se un artista è più o meno originale oppure no cioè nel senso che se quando noi andiamo ad ascoltare un disco una fattispecie io che ne ascolto diversi e li recensisco pure mi pongo il problema più della della forma di questo disco c'è della registrazione quindi della perfezione della qualità tecnica oppure non so di di belle melodie belli incassi armonici oppure quanto sia originale rispetto alla media chiaramente di dischi corrispettivi allora il punto è questo io personalmente premio diciamo al 99 per cento o 100 per cento quello che a mio avviso è quindi io e per me è l'originalità il resto viene secondario però tu puoi dire come fai a dire cos'è originale o meno originale rispetto a un tuo punto di vista che quindi opinabile perché sei tu che hai un tuo criterio di originalità faccio un esempio molto stupido allora per esempio che ne so gli youtube ad alcuni sembrano originalissimi ad altri sembrano solamente un gruppo d'arena rock leggermente all'inizio un po' allaccato di di post punk e qualche sprazzetto di psichetelia poi dopo diventati proprio un gruppo da classifica insomma di un buon mainstream pop diciamo ecco non proprio una cosa terrificante però un gruppo insomma quelli proprio anni 80 che riempivano gli stadi certo meglio dei queen meglio di altri però e invece per altri magari possono dire no 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 gli due grandi innovatori della canzone pop perché la chitarra di di age comunque aveva degli arpeggi originali aveva dell'accordatore originale il che è anche vero è che come chitarista 10 non è proprio da buttare bono aveva quel falsetto che rendeva tutto così riconoscibile oppure che ne so possiamo dire stesso discorso applicato ad un altro grande gruppo gruppi del rock andiamo agli anni 60 i beatles erano più o meno originali dei rolling stones o degli who stiamo sempre lì per me gli who erano forse quelli più avanti rispetto anche agli altri perché erano più protopunk e più vicini appunto ad anticipatori del punk i rolling stones avevano una loro visione del blues totalmente distorta e malata per quei tempi chiaramente parliamo di dischi di ormai 60 anni fa quindi ci dobbiamo calare in quello che era la scena musicale dell'epoca mentre i beatles rappresentavano l'ala quella più pulita che chiaramente grazie anche alla produzione di george martin hanno avuto sia degli arrangiamenti insomma costruiti bene ad hoc su di loro lennel mccartney hanno saputo scrivere comunque buone melodie questo è in dubbio forse i meriti sono stati troppi rispetto a quelli poi che gli hanno alla fine tributato cioè io tra rolling stones e beatles preferisco i rolling stones però questo sono io non è che mi metto a fare la battaglia pro o contro beatles e rolling stones diciamo che i dischi veramente belli di rolling stones io li ascolto ancora oggi certe cose dei beatles faccio fatica a sentirle oggi perché perché non le ho mai sentite troppo mie neanche quando l'ho acquisita la prima volta perché sapete io vengo nato background vengo dalla classica anzi in realtà mi dovrebbero più piacere i beatles dei rolling stones in teoria perché sono più melodici sono più più barocchi sono un po più pop barocca no così sia eppure in realtà io preferisco i rolling stones ma ancor di più ad esempio mi piacciono molti monks che erano sempre un gruppo beat se volete un gruppo garage beat che però quello era avanti di almeno 20 25 anni quindi allora possiamo dire che i monks erano più originali sia dei dei rolling stones che 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 dei che dei beatles quindi ecco secondo questo criterio per esempio non so ieri l'amico federico frusciante ha recensito un disco di bjork l'amico lost ha detto grande disco ma ampiamente sopravvalutato forse qui si è un po contraddetto nella frase che tu dici grande disco ma ampiamente sopravvalutato allora devi dire un buon disco ma ampiamente sopravvalutato perché se dici grande disco è sopravvalutato c'è stona un po perché tu dici molto sopravvalutato ma è grande disco allora vuoi grande disco è molto sopravvalutato ma questa non è una tirata d'orecchia che faccio all'oste però dovrà forse formularla meglio la cosa invece io sotto gli ho scritto è un buon disco ma preferisco altri di bjork ecco per esempio su bjork è più originale lei o che ne so solex per esempio perché più o meno sono usciti dischi coevi perché quelli a vesperti nel 2001 nel 2001 c'era love kick and hard box di solex che è uno dei dischi più importanti degli anni 2000 secondo me è molto più originale bjork solex perché lei con quattro dischi rotti è un campionatore vintage ha fatto un disco dove dentro ci sta la lip hop alla psichetelia alle melodie baroque pop c'è di tutto e ha fatto tutto da solo mentre bjork ha un team di produzione sempre abbastanza uscito su di lei che possa essere grandi produttori del sol dell'hip hop o anche arca in buona cultura che forse per me è il suo miglior disco perché lì arca ha dato anche il meglio di sé come produttrice elettronica e allora eccole le qualità di bjork anche vocali vengono espresse meglio unicoltura per me è un buon disco ecco non grande è un buon disco ma provisco anche io homogenic debut e quest'altro prodotto da che ho detto adesso prodotto da arca che è del 2015 mi sembra volnicoltura quindi il discorso però questo posso capire che personale perché molti stravedono per bjork e magari non conoscono affatto solex perché bjork ha venduto molti più dischi ha fatto anche cinema quindi un nome che sta un po sulla bocca quasi di tutti eccetera per me bjork è una buona cantante se non è male che indubbiamente c'è tra le doti vocali ce le ha è un po sopravvalutata nel senso che a volte gli arrangiamenti che il cucino addosso poi sono un po troppo ampollosi soffocano un po la visione d'insieme mentre appunto solex invece ha la la qualità della sobrietà del del fai da te do it yourself appunto del non tanto ve lo fai da do it yourself quindi ecco io preferisco appunto tutti gli artisti che riescono a a discostarsi un po sia dallo stereotipo e dal cliché come ho sempre detto che che rifarmi un qualcosa che ho già sentito tante altre volte per esempio bjork si fa anche molto al musical di broadway però lo rifà in maniera devo dire del tutto personale perché bjork io tre dischi c'ho c'ho debut omogenic e quest'altro che ho detto prodotto da d'arca c'era un altro uscito nel 2022 che pare che non è male però non l'ho ascoltato poi basta che poi gli scrittori per me sono anche un po troppo lunghi andrebbero un po sottili quindi è tutto un discorso così però ecco stessi discorsi si possono fare per tante altre meglio lisa germano o un punto meglio bjork meglio lisa germano o solex questi sono discorsi complessi perché lisa germano forse si spinge ancora oltre a solex perché travalica ancora di più i confini pur essendo una cantatrice più tradizionale perché lei non usa né campionatori e né usa dischi rotti e cose lei c'ha proprio una band d'accompagnamento lei stessa suona il fiddle il mandolino il pianoforte quindi si accompagna così è tutto un po un discorso sempre relativo al concetto che uno ha di che è personale indubbiamente personale di originalità e di creatività e di innovazione però chiaramente per avere cioè per avere anche questo background personale uno deve comunque aver immagazzinato un certo numero di ascolti perché altrimenti non lo può fare perché se uno sa come modelli solamente ne so madonna e cindy lover non è che possa fare poi tanti paragoni è chiaro che bjork sembra maria gallas questo questo è in dubbio adesso non è che voglio fissarmi adesso neanche con bjork perché mo meno da in testa perché ieri la recensita federico quindi il mio criterio è di premiare sempre il mio l'originalità soprattutto rispetto poi alle qualità meramente tecniche pratiche del musicista stesso pur venendo dalla musica classica per cui io dovrei essere tutto il contrario cioè in realtà premiare solo il solfeggio e la tecnica e certo è anche il temperamento perché arturo benedetti michelangeli è un pianista ad esempio molto diverso da glengould eppure a me piacciono molto entrambi anche se arturo benedetti michelangeli è quello che più si atteneva allo spartito vero del musicista classico perché si sa che glengould riface uno spartito tutto suo quindi sono due anime abbastanza diverse e io le amo entrambi oppure che ne so è più che ne so originale peter green o jimmy hendrix io direi jimmy hendrix è più originale di peter green ma no che peter green sia una schifezza perché il primo disco di peter green è un cavolavoro e così anche certi pezzi dei fit to mac come albatross e altri che fece lì con proprio quegli sparuti pochi brani che fece in tempo anziettelo con fit to mac sono dei capisaldi di quel genere che infatti sono tutt'altro che blues rock poi fit to mac fecelo di meglio con la secondo me con la seconda formazione quella americana quando si diede l'all pop e fecelo del pop di ottima fartura e quelli sono me erano ancora più originali e ancora sì appunto anche più originali di quelli blues blues rock degli anni 70 a molti sembra una bestemmia ma quelli blues rock degli anni 70 erano forse anche un po derivativi nei pezzi non di peter green quindi sempre i dia straits come si viste sono originali o no assolutamente no perché hanno copiato un po tutto al certo twist anni anni sessanta il timbro vocale è quello di bob dylan la chitarra e il gg gale di loro c'è molto poco certo poi magnofer tecnicamente è bravo dubbiamente è un gran chitarrista a livello tecnico però a livello di ispirazione musicale è un po poverello a mio avviso insomma poi il classico che è scozzese inglese che vuole fare l'americano quindi invece richard thompson dei fairport convention e poi lavorò da solo fece dei capolavori solisti con la moglie poi finì anche a suonare con bob mold finì a suonare con i golden palominos quello è un signor chitarista molto originale tra l'altro sono anche con nick drake che pur derivando un po anche lui a livello di canzoniere da bob dylan però ha fatto uno stile del tutto originale posso pensare anche a bruce prinstein che molti detestano però indubbiamente anche lui dalla discendenza dei cantatori dopo bob dylan è un cantatore urbano di tutto rispetto di cui the river è un masterful cioè su questo non non ci piove cioè almeno per me voglio dire poi vabbè born in 26 e altri incominciano a essere già più di compromesso ma anche nebraska o the river o anche quell'altro non so se è il secondo lp che adesso non lo ricordo c'è lui in copertina coi baffetti che è un disco di laniano però di di propria personalità stiamo sempre lì so new young è sempre stato il cantatore forse più grande di tutti a livello proprio di canta autore proprio di canta autore perché perché aveva delle innovazioni armoniche per esempio come so cow girl in the sand quel pezzo lì che poi è stato coverizzato anche da bombole quello è un pezzo che a parte ha introdotto delle innovazioni anche di distorsioni armoniche che i sony cute hanno fatto tesoro per esempio infatti tutti questi gruppi sony cute anche uscar 2 mi young abdu abdu cioè ci si buttano sul tappeto rosso proprio e tanto di rappello friend zappa è originale sì indubbiamente il primo vero grande musicista totale è proprio il che ha incarnato in pieno in toto l'essenza del musicista totale perché lui non puoi dire che era progressive che era jazz che era vanguardia che era che so io proto metal lui era tutto in uncle meet c'è tutto in quel disco lì in absurdity free c'è tutto c'è un'anticipazione mentre di tutto quindi oltre a essere stato lungimirante produttore di team bugley di blue afternoon star sailor e di truthmasco replica ecco per esempio truthmasco replica è originale originalissimo non si è mai sentita una cosa del genere forse difficilmente si sentirà qualcosa che gli si avvicina per quanto estrema possa essere perché tenete conto che quello è un disco che ci ha 56 anni quindi c'è e ancora adesso è pura pura avanguardia ancora adesso è roba che molta gente fa difficoltà a digerire e quindi questo ti fa capire twin infinitives è originale sì pur derivando da musica cosmica da sanrà da quello che ti pare però è un calderone originale da re craiola eccetera eccetera quindi io premo l'originalità questo mi interessa a me poi ognuno c'è al suo metodo chiaramente magari marco lincetto di velut luna c'è al suo che è tutta tecnica audiofilia e chiaramente siamo su due mondi differenti e che parte il fatto che poi quello non è manco un critico in tecnico del suono quindi secondo me non non è questo un po di niente io pure non sono un critico professionista e ho fatto matematica ma non mi sono sempre appassionato di musica però mi sembra che lui la fa veramente proprio molto fuori dal vaso però vabbè fatemi sapere le vostre impressioni su queste cose perché mi sembra un topic abbastanza interessante ciao ciao e buona serata a tutti